ecco ansel ciao ansel ciao amore ciao dolcissimo allora raga ansel ha i suoi 6 7 mesi cioè avete un sacco di foto dove si vede quanto è morbidoso e teneroso guardate è piccolo e piccinissimo ma di una dolcezza estrema anche un po timoroso chiaramente convive con questa spinoncina deliziosa e quindi non lasciamo che resti davvero solo perché sarebbe una cosa brutta brutta anche perché stiamo chiedendo una mamma io non riesco a commentarlo perché veramente è un cagnetto è un bambino e adesso anche creterlo quindi la differenza cioè per me non c'è mai guardate che tenerezza guardate cioè prende le coccole scodinzola e nel contempo è timoroso ma bello è morbido c'è un pelo stupendo guardate quello del dolcezzo dai mamma buttiamolo ansel non lo lasciamo giù ti prego ti supplico vengo anche io con lui vabbè ansel ti volevo fare due foto ma ti muovi come un pazzo ma non perché sia vivace o iperattivo è perché comunque si spaventa si spaventa pure dalla telecamera ansel già Simo te la trova la mamma te lo prometto te lo prometto dai salutiamo ciao mamma vieni a prendere vieni a prendere perché la soverina mia se ne va io cosa faccio da solo ciao ciao ok ciao